Un momento assolutamente interessante ed importante, quello che si è discusso stamattina qui alla Mola Mamba Italiana, la sicurezza sul lavoro. È un tema sempre in auge, è un tema sempre approcciato, anche se con attenzione sempre in maniera insufficiente. Nel senso che è fondamentale perseguire sempre con maggiore attenzione proprio questo ambito che fa parte del settore del lavoro, che troppo spesso, come abbiamo visto in queste ore, ha dei riscontri drammatici anche in qualche caso nella nostra regione ma nei livelli nazionali perché ci sono molte situazioni di sofferenza sotto questo punto di vista, molto drammatiche. E anche una sola morte o un solo incidente su un luogo di lavoro merita tutta la nostra attenzione e il far di tutto per cercare di evitarlo. Si è contestualizzata stamattina la situazione del porto di Ancona, le attività operative e lavorative all'interno dei porti sono forse ancora più complicate di quelle di altre situazioni, proprio perché c'è anche il modo di dire che è un porto di mare. Cosa vuol dire questo? Che c'è di tutto, nel senso che chi va, chi viene, lavoratore anche di altre nazionalità, la difficoltà anche proprio a interagire con la stessa lingua tra un lavoratore e l'altro. Di conseguenza è un settore che va assolutamente attenzionato. Io credo che stamattina qui sia stato fatto. Non siamo assolutamente all'anno zero. C'è una consapevolezza nel mondo imprenditoriale, lavorativo e associativo qui nel porto di Ancona, come del resto della nostra regione, molto avanzato, molto evoluto. Va affrontato ancora al meglio il tutto tra istituzioni, associazioni, imprenditori, lavoratori stessi, sindacati perché comunque sia, anche nelle situazioni non negative, va comunque sempre cercato di fare di tutto per migliorare ulteriormente, soprattutto in questo settore, la sicurezza, quindi la dignità umana del lavoratore.